Benvenuti alla terza puntata della rubrica A domanda risponde. Oggi parleremo di normativa riferita alle gradatorie provinciali per le supplenze dei docenti. La prima domanda è la seguente. Chi è inserito già nelle GPS di una provincia sta frequentando il quinto ciclo di TFA per ottenere la specializzazione e per insegnare sostegno. Quando potrà inserire il titolo nelle gradatorie di sostegno delle GPS? Ebbene, ai sensi dell'articolo 10,1 dell'ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020, nelle more della ricostituzione delle gradatorie provinciali per le supplenze, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, entro il 1 luglio 2021, possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, da cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. In via del tutto eccezionale per i previsti ritardi di conseguimento dei suddetti titoli, la data del 1 luglio 2021 è prorogata con un decreto ministeriale ad hoc al 20 luglio 2021. La seconda domanda a cui daremo risposta è la seguente. Ho rinunciato alla nomina da GPS per una data classe di concorso. Sarò depennato da tutte le classi di concorso delle GPS oppure posso aspirare ad avere altra convocazione ancora dalle gradatorie provinciali per le supplenze per altra classe di concorso diversa da quella da cui ero stato già convocato? Sì, può aspirare ad avere una nuova convocazione da GPS per altra classe di concorso diversa da quella della prima convocazione. Infatti l'articolo 14,1 lettera A dell'ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 specifica che la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle gradatorie provinciali per le supplenze per il medesimo insegnamento, ma non esclude la possibilità di nuove convocazioni per altri insegnamenti. La terza domanda a cui daremo risposta è riferita sempre alle GPS ed è la seguente. Il dirigente scolastico di una scuola dove sono inserito in GPS in prima fascia per la classe di concorso a 0,41 ha assegnato quattro ore residue di questa disciplina ad un docente di ruolo senza titolo di abilitazione. Si tratta di una assegnazione regolare? No. Il DS ha commesso un errore. La supplenza sarebbe aspettata al docente in gradatoria provinciale per le supplenze col titolo di abilitazione in A 0,41. Il dirigente scolastico infatti ha essenzio dell'articolo 1,79 della legge 107 del 2015 può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati purché in possesso del titolo di studio, cioè della laurea che dà accesso a quella classe di concorso ma prima deve controllare le GPS, deve verificare che non ci siano abilitati le GPS per poterlo dare al docente di ruolo per cui ha commesso questo errore. Avrebbe dovuto prima nominare per le quattro ore proprio dalle gradatorie di istituto dove c'era l'abilitato. Speriamo che questa rubrica vi sia stata utile e seguiteci ancora perché la rubrica andrà in onda in maniera ripetuta ogni mercoledì e seguiteci anche nei nostri social Facebook e YouTube. Un saluto a tutti quanti. Grazie a tutti.